Tanti appuntamenti durante le feste nella capitale. A Proda Piazza di Spagna l'azienda marchigiana Laipe con una boutique chiamata Cromia, come l'omonima linea dedicata ai suoi splendidi prodotti in pelle. La famiglia Sciamanna, proprietaria del marchio, è presente anche a Milano, in Europa e persino ad Hong Kong. E nella capitale ha avuto molti VIP presenti all'inaugurazione tra i quali Beppe Convertini, Anna Maria Manipiero, Brando Giorgi, il notario Giovanni Pocaterra, Anthony Pett, Andrea Roncato, invitati dalla sociologa televisiva Deborah Bettega. Al Ristorante di Via Margutta sarà esposta fino al 15 gennaio la mostra collettiva Double Fass. Sette vizi per sette virtù, a cura di Francesca Barbie Marinetti. 40 artisti si esprimono sulla tematica morale in uno spirito di solidarietà. Il ricavato andrà interamente alla ONG Emergenza Sorrisi. L'artista Vera Macht era presente alla grande festa presso gli eleganti saloni di Palazzo Falletti e a Via Panisperna, con i suoi quadri in esclusiva esposti immediatamente ci si è immersi nella cultura nell'appuntamento dal titolo Madame Monsieur, organizzato dalla marketing manager Gabriella Chiarappa, esperta in luxury fashion, insieme alla bella attrice e regista Eleonora Albrecht, della quale è stato proiettato il documentario dall'omonimo titolo della serata.